Rieccoci a Primos Interpares, l'appuntamento del mercoledì, siamo in diretta sulla pagina Facebook, la tematica l'avete capito, vi stiamo facendo vedere, anzi vi sta spiegando in maniera più che esaustiva l'assessore alla cultura del Comune di Padova Andrea Colasio e gli otto siti che sono stati inseriti come, diciamo, c'è un catalogo all'interno dell'UNESCO su tutte, oppure i patrimoni che ci sono, assessore, oppure sono tutti uguali, basta essere inseriti all'UNESCO? No, no, noi siamo dentro, noi siamo il 55esimo sito UNESCO italiano. Ah, dunque c'è una classifica, volevo dire. C'è un ordine storico, dal primo all'ultimo. Ah, ma no, oltre all'ordine storico c'è anche una classifica dei valori? No, no. Cioè magari dicono, faccio un esempio, la regia di Caserta vale più di, sto facendo un esempio. Sarebbe un errore concettuale, ogni bene culturale, che sia dell'antichità o più recente, ha un valore. Come dicevo prima, è un bene culturale, che significa, è una testimonianza di civiltà, non è che le civiltà hanno delle gerarchie, è una visione un po' spesso etnocentrica, europacentrica. Noi in realtà dobbiamo riconoscere ai tempi buddisti lo stesso valore del 300, perché rappresentano un qualcosa di unico, eccezionale, straordinario. Perfetto, è stato chiarissimo, era giusto far sapere ai nostri telespettatori, anche ha sottoscritto che non c'è una gerarchia, ma sono tutti beni culturali equiparati, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Andiamo a vedere questo patrimonio mondiale dell'UNESCO, che è il battistero del Duomo. Questo è un capolavoro assoluto, questo è uno dei grandi capolavori, abbiamo la Cappella degli Scrovegni, che è il capolavoro più importante, il giotto maturo. Il battistero è il più grande capolavoro di questo artista, che è di origine fiorentina, anche se lui in realtà... Vedo che partiamo sempre dall'alto, nell'immagine. Sì, col drone. Lui arriva a Padova nel 1370, ha lavorato in area milanese, ispirandosi a Giotto, a Viboldone. C'è un suo inferno che è chiaramente di matrice giottesca, quindi è realizzato nel 1349, quindi lui era venuto a Padova e si era studiato Giotto. Lui viene a Padova nel 1370 e lo chiama, tra l'altro viene a lavorare per una donna, Traversina Cortellieri, che fa una tomba al figlio Tebaldo, che è morto, era al servizio della reggia carrarese, è un giurista, lavorava per la famiglia carrarese, muore a Roma probabilmente di peste e Traversina è la prima donna committente e gli fa la tomba dove? Nella chiesa degli Eremitani. Crea un precedente, perché? Perché quello che è eccezionale in questo luogo che voi vedete è completamente affrescato all'interno. Allora il Battistero, diciamo che possiamo datarlo al 1274, c'è anche un'iscrizione che lo ricorda, quindi è precedente, era il Battistero, i Padovani li venivano battezzati. Voi capite che è straordinario, la signoria carrarese trasforma un luogo sacro in mausoleo privato. È come se avessero voluto creare un rapporto, diciamo, consustanziale, inedito tra la signoria, la città e il sacro. Quindi non è solo un processo di autocelebrazione della loro famiglia, ed è la donna che lo pensa, fino a Buzaccarini, è qualcosa di più. Il Battistero è un luogo dove avviene un vero e proprio processo di sacralizzazione del potere. Ogni Padovano che doveva essere battezzato, prima di andare, diciamo, al centro del Battistero dove c'era la fonte battesimale, passava sotto la tomba che lì si vede ad arcosodio della famiglia cararese, dove c'era fino a Buzaccarini e Francesco il Vecchio. Ecco, fino a Buzaccarini, già nel suo testamento, lascia l'incarico al figlio Francesco e al marito perché si occupassero di portare a termine il Battistero. Lei chiama quello che è venuto a Padova, appunto Giusto de Menabuoi, che è venuto a Padova nel 1370, ha già lavorato anche in Cappella degli Scrovegni, c'è la sua bellissima Madonna del Latte e sarà il secondo pittore di corte. Sapete dove abitava? Abitava in un posto che tutti i padovani conoscono, se gli dico il vecchio nome no, in via Scalona e voi direte dov'è, non c'è più, perché è l'attuale via Barbarigo, ecco lui abitava lì e conseguentemente dopo con i primi soldi che ricevette si prese una casa nella contrada del Duomo per poter seguire meglio i lavori. Lì ovviamente lui lavorò con una imponente bottega e realizzò a partire dal 1375 in un paio d'anni l'immenso capolavoro che è il più grande capolavoro legato appunto a Giusto de Menabuoi che è uno dei più importanti pittori assieme ad Altichiero della seconda metà del XIV secolo. Voi vedete che c'è la cupola, ovviamente c'è Cristo Pantocrator, Pantocratore, con tutti quanti i santi e le schiere angeliche. Sempre nella cupola sul coperchio, nel tamburo, avete una trentina di scene tratte dall'Antico Testamento e qui c'è, ci sono alcune tra le scene più belle, ce n'è una che io prediligo che è la Genesi, vedi Cristo, Dio, che sta creando il mondo, che è una gigantesca sfera e la cosa eccezionale qual è? È che Giusto de Menabuoi non era solo un bravo pittore, ma era un geografo. Se voi andate a vedere da vicino questa sfera che rappresenta la Terra, riconoscete il mare del Nord, il mare del Sud, le colonne d'Ercole e il Giappone e la Terra è fatta talmente bene, pur essendo immaginata da giusto come piatta, che sembra quasi sferica. È impressionante. Ecco, dopodiché all'interno cos'è? Tenete conto che la cosa incredibile, lo dicevo prima, è che vedete nei pennacchi avete i quattro evangelisti che sono circondati dai dottori della Chiesa, dal loro simbolo e sempre dal simbolo cararese. Tutto l'apparato iconografico è corredato da dimensione sacra, la nascita del Battista, che chiaramente è un dialogo serrato con la nascita di Maria all'interno della Cappella degli Scrovini, ma tutto l'apparato è funzionale a diventare mausoleo della famiglia cararese. Qui infatti, fino a Buzzaccarini, spende 10.000 ducati. La cosa interessante perché, lo dico e poi ci torniamo quando parliamo della Cappella di San Giacomo, dovete sapere che un'altra donna, pochi anni prima, aveva realizzato un altro mausoleo per la famiglia sua, il marito, i lupi di Soragna. È una sfida la signoria cararese, fino a Buzzaccarini vuole questo battistero come mausoleo. Ma voi capite che il diritto canonico dell'epoca non permetteva di trasformare un battistero in mausoleo, ma loro ovviamente la famiglia cararese è talmente potente che convince, diciamo, le autorità religiose a fare una deroga. Quindi il battistero viene trasformato nel mausoleo della famiglia cararese. Una curiosità, lasciamo pure queste immagini, Marco Claudio, la domanda è questa un'opera del 1200, sbaglio, 1300 più o meno, no? Il battistero viene realizzato nel 1274. Sì, facciamo 1300. La domanda è che non c'è nessuno. Un secolo dopo. Come facevano? Non c'erano ovviamente le impalcature che ci sono oggi, le gru che ci sono oggi. Me lo fai rivedere, Marco. Come facciano a dar sopra? L'hanno fatto con delle impalcature linee. Cioè? Beh, praticamente rappresenti i tubi innocenti. Sì, ma c'erano anche in quel periodo lì. I tubi innocenti fatti di legno, fatti di legno e legati ovviamente con corde e altri materiali. Con i tubi innocenti tu costruivi delle potenti sovrastrutture che permettevano i pittori. Immagino che se oggi la sicurezza nel lavoro ha in quel periodo lì. Giorgio, le posso dire una cosa curiosa? Lei ha toccato un tema eccezionale. Parlando di sicurezza del lavoro, proprio lì nel tamburo. Ferma lì l'immagine, Marco. C'è una scena pazzesca. Stiamo parlando del Nuovo Testamento. C'è la costruzione mitica della Torre di Bavele. Quindi vedi questi operai, questo cantiere che sta costruendo, poi sapete l'intervento divino farà sì che parleranno tra di loro lingue diverse, ma prima ancora è giusto cosa fa? Fa una cosa pazzesca. Fa cadere due operai mentre lavorano. È raffigurato uno dei primi, direi forse il primo incidente sul lavoro raffigurato da un pittore. Ed è bellissimo. Che molto realmente sarà capitato. Probabilmente è capitato. Quindi il povero giusto è rimasto colpito emotivamente e nel rappresentare iconograficamente la costruzione di questa torre che doveva arrivare fino al cielo, che rappresenta la presunzione umana del sapere, fa cadere due omini, vedi, che precipitano. È una scena bellissima. Diciamo che tutto il battistero è segnato... Raffigurato è bellissimo dal vivo un po' meno. Dal vivo un po' meno. Comunque la cosa importante, e chiudiamo forse perché il tempo qui è finito, quando i veneziani conquistano Padova, sapete cosa fanno? Entrano nel battistero e le cronache che ci dicono che la soldataglia veneziana con le alabarde cancellava i volti e gli stemmi carraresi che poi vennero scoperti di colore verde. Ancora oggi, se noi guardiamo entrando la scena sotto la tomba, la tomba d'arcosodio, ciò che rimane, vedete che gli stemmi dei carraresi sono parzialmente coperti da colore verde, vennero cancellati. Altra cosa, lì le tombe non ci sono più, cioè perché c'è l'arcosodio, fatto tra l'altro da un importante architetto, scultore veneziano, Andriolo de Santi, ma i veneziani fecero, distrussero le tombe dei carraresi e le buttarono via. Di solito la nobiltà non si comportava così, tra nobili c'era sempre il rispetto. Un'eccezione perché? Perché Venezia, come dicevo prima, odia a tal punto i carraresi perché li considera traditori e conseguentemente fa sparire le tombe della povera Fina Buzaccarini. Vi dico un'altra cosa, i soldi li mette Fina Buzaccarini. La scena principale, quella della dedicazione, è dove la piccola Fina, perché si rappresenta diversamente da Scrovegni, che si rappresenta in scala naturale, Fina Buzaccarini di fronte alla Vergine e a Battista, si rappresenta in scala ridotta, si chiamano gerarchie geometriche medievali. Ma la cosa buffa, e poi chiudo, è che Fina si rappresenta da sola, non c'è il marito. Sapete perché? Perché lei era molto arrabbiata quel marito, perché dopo che il marito ebbe il primo figlio maschio, dopo le tre donne, siamo nel 1359, la storia racconta che ebbe tantissimi figli illegittimi, insomma ebbe un sacco di donne. Fina Buzaccarini diciamo che nel Battista era un po' si vendica e non lo rappresenta nella scena attuale, come se dicesse, l'ho fatto io, il mausoleo dei Cararesi, a dispetto dei tuoi tradimenti. È una scena molto bella. Lei capisce che è impossibile interromperla in questa sua spiegazione? Io capisco tutto, io la faccio che sforare nei temi perché è impossibile fermarla, non è neanche bello, mi perdoni. Va bene, andiamo nell'altro sito che è la Cappella di San Giacomo e Belludi. La Cappella di San Giacomo è, guarda caso, è voluta da una donna, è voluta da una donna, Caterina De Franceschi, siamo nel 1372, quello che è interessante è chi è il committente. Caterina De Franceschi è moglie, è compagna di un importante personaggio che si chiama... Ricordiamo che è all'interno del Santo questa Cappella. Sì, sì, è nel transetto di destra, improvvisamente tu entri al Santo, percori pochi metri, sulla destra trovi questo incredibile spaccato gotico, sembra di essere a Venezia, sono bellissime quelle sei colonne in marmo rosso. Lei lo sa, Assessor Colasio, che Padova ha 208 mila abitanti, la città, con ovviamente la provincia arriviamo a Milano, io credo che il Santo lo conosceranno bene il 5%, non di più. Sì, pochissimi conoscono questo cappello. Non so nemmeno che c'è un orologio bellissimo all'interno. Ma non conoscono, sicuramente la Cappella di San Giacomo la conoscono in pochi. qui, allora, anche qui c'è un intento autocelebrativo. La famiglia Lupi di Soragna sono stati cacciati dai visconti, dal loro feudo in quel di Soragna, sono venuti a Padova, si sono legati ai carraresi, addirittura Bonifacio Lupi di Soragna, la madre era una carrarese, conseguentemente fanno parte dei familiares della corte, sono quelle famiglie nobili, condottieri, diplomatici, insomma una corte cararese, una corte in genere è formata da intellettuali, guerrieri intellettuali e religiosi. Bene, guardate la bellezza di questa struttura con quel marmo bianco e rosso. Qui lavorano fianco a fianco due geni, Jacopo Avanzi e il grande altichiero. Hanno lavorato fianco a fianco nella parte superiore, poi Jacopo Avanzi deve essere morto perché non troviamo più sue tracce, ma soltanto il pagamento finale di 900 Ducati a favore di Altichiero. Per realizzarla venne spesa una cifra enorme, c'è chi parla di una cifra tra i 5.000 e gli 8.000 Ducati. E' questo che fa arrabbiare Fina Buzaccarini che vorrà fare... Paragonabile a oggi? A diversi milioni di euro, qualche centinaio di milioni di euro. E' un'opera immane, tenete conto che lì viene chiamato ancora una volta due tra i principali pittori che avevano lavorato, specie al tichiero, nella reggia degli Scaligeri. Quindi sono pittori importanti che si muovono sempre tra Padova, Venezia e Verona. Anche qui una struttura completamente affrescata dove viene raccontata una storia che è autocelebrativa della dinastia dei lupi di Soragna. C'è la storia della mitica regina lupa che la leggenda aurea ci racconta che era lupa non solo di nome ma che pensava lupinamente, cioè era molto cattiva. Cosa si vuole nella storia? San Giacomo è uno dei discepoli di Cristo, viene decollato, il suo corpo viene messo su una nave, racconta la leggenda aurea che questa nave, senza che nessuno la governasse, cioè senza governamento, arrivò dove? Arrivò in Spagna, dove i discepoli appunto di San Giacomo, San Giacomo Maggiore, iniziano a cercare un luogo dove seppellire il povero San Giacomo. Tutta la storia finisce quando prima la regina lupa cerca di imbrogliarli, di farli mettere in prigione, di farli uccidere. Alla fine, grazie a dei miracoli di San Giacomo, i discepoli la vincono, riescono ad ammansire anche dei tori feroci e cosa succede? Che la regina lupa si pente e regala il suo meraviglioso palazzo che è lì raffigurato ai discepoli di San Giacomo. E cosa è? San Giacomo di Compostela. Quindi noi abbiamo una gigantesca raffigurazione, poiché lupi di Soragna vuole autocelebrare la sua mitica genesi, che in realtà ovviamente è mitologica, ricostruisce l'intera vicenda di San Giacomo detto il Matamoros e sono scene bellissime, ecco, di qualcune scene imperdibili. La crocifissione che di Altichiero è stupenda, ma c'è una scena nel piano alto dove vedi un miracolo, cioè sostanzialmente cosa accade. I soldati del re di Spagna sono a cavallo, stanno inseguendo i discepoli di San Giacomo che sono scappati dal carcere, San Giacomo interviene e fa crollare il ponte, i cavalieri e i cavalli cadono, cadono nel vuoto. E qui è una scena potentissima, un importante studioso come Mellini dice che è la scena più straordinaria, pensatevi, dell'intero Trecento Italiano. L'abbiamo noi di Al Santo e pochissimi padovani l'hanno vista. È la scena più straordinaria, più incredibile dell'intero Trecento Italiano. Pisanello si è ispirato, vedi dei cavalli che sicuramente Jacopo Avanzi ha studiato dal vero che cadono nel vuoto. È una scena potentissima ed è il mausoleo della famiglia Lupi di Soragna. Senti, prima della pubblicità, Assessore Colasio, la scelta degli otto siti è stata opera di chi? L'abbiamo scelta noi, è stata una squadra a scegliere questo. Sì, devo ringraziare Giovanna Valenzano, il dottor Banzato, tutti gli studiosi che negli anni, la dottoressa Millozzi, abbiamo lavorato in tanti ma sapevamo che quelli erano i siti perché il Trecento a Padovano è lì, non è che ce ne fossero altri. Io sapevo che c'era anche il castello, tanto è vero che nel dossier ho inserito il castello dicendo che questo è in lista d'attesa. Ho messo le mani avanti. Quando sarà terminato e aperto al pubblico, ovviamente anche il Castello Carrese diventerà un sito del patrimonio UNESCO. Rivedete con noi tra poco. Grazie.